Una partita bella, affascinante soprattutto per il calcio italiano che è importante tra due squadre che lotteranno fino alla fine per lo scudetto, perciò credo che sarà una partita bella, la vedremo tutti quanti e speriamo che sia una bella partita sotto l'aspetto tecnico. Due squadre che interpretano il calcio in modo di giocare completamente diverso, perciò credo che sarà una partita interessante. Tutte e due le squadre hanno dimostrato in questo inizio di campionato di essere due squadre molto brave nella fase difensiva, prendono pochi gol, sono molto compatte, però giocano in modo diverso, una squadra gioca un 4-3-3, un'altra squadra gioca con un 4-4-1-1, un 4-4-2, dipende dalle situazioni degli interpreti, sicuramente il Napoli gioca di più la palla, l'Inter si appoggia molto sulla forza fisica di questi grandi giocatori che hanno forza, perciò credo che sia una partita diversa tra due squadre, però che dovrebbe essere anche speriamo una partita spettacolare. C'è da divertirsi non solo con questi due giocatori, ma un po' tutti i giocatori, sono giocatori nella fase offensiva, i Cardi e i Guaini straordinari, i Guaini fondamentali per il Napoli, per l'Inter io credo che bisogna dargli ancora tempo ai Cardi, perché credo che fino adesso ha dimostrato meno rispetto alle sue aspettative.